Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi finalmente alle mie spalle primo teaser ufficiale di fortnite arriva così ragazzi cattivissimo dalle world cup il primo teaser fortnite x dove avete visto i magazzini che sembrano essere ricostruiti questo ragazzi era il primo teaser tanta tanta roba mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo poi domani mattina alle 8 in live